Oggi parlerò della società civile e delle mobilitazioni portate avanti dalla società civile nei paesi che conosciamo come Balcani occidentali. C'è un filo rosso che unisce tutte queste proteste che possiamo individuarlo come grande tema quello della corruzione, ma ancora in modo più ampio possiamo definirlo come una richiesta di democrazia. Viene chiesta anche la libertà di espressione, per esempio perché in alcuni di questi paesi, possiamo fare l'esempio della Serbia, la libertà di espressione è limitata. Una frase che mi piace ricordare è quella che mi è stata detta una volta in Bosnia nel 2014 da un manifestante che diceva ci siamo svegliate dal sogno della transizione. Le guerre in Jugoslavia sono finite ormai da vent'anni, non c'è stato quel cambiamento, quella transizione verso la democrazia, che ci si aspettava. Sicuramente il fatto che sempre più persone decidono di manifestare in modo più o meno pacifico è il segno di una società civile che si è comunque ripresa dal post-guerra e che chiede ai propri governi di essere responsabili, di lavorare per i beni dei propri cittadini e di non essere guidati da interessi particolari o da chi è disposto a corrompere questi governatori. Da una parte sono anche pessimista perché a livello istituzionale non vedo cambiamento, le alternative politiche che ci sono sono deboli per ora. Si è parlato di questi paesi dei Balcani occidentali, di queste elite come stabilitocrazie, nel senso che sono governi guidati da giovani leaders che si pongono come riformatori nei confronti dell'Unione Europea che dimostrano un apparente e sincero interesse nell'entrare all'Unione Europea. Quindi da una parte questi governi nei Balcani occidentali entrano a secondare per così dire le preoccupazioni dell'Unione Europea. I leader europei d'altra parte sembrano accontentarsi di questa facciata molto progressista, disponibile alle riforme rappresentate da questi governi ma sembra chiudere un occhio sulla loro svolta autoritaria. Per cui l'Europa se da una parte sembra capire le ragioni dei manifestanti e quindi gli appoggia in qualche modo in questa richiesta di maggiore democrazia, minor corruzione eccetera, allo stesso tempo appoggia quegli stessi governi che causano l'aumento della corruzione e via dicendo. Come riportato da questo studio della Friedrich Herbert Stichtung sulla condizione giovanile, sulla partecipazione politica dei giovani, quello che emerge è una gioventù della post-Yugoslavia, post-Yugoslavia scusate, o post-transizione. Cioè stiamo parlando di una generazione che non ha vissuto durante la Jugoslavia, che è anche meno incline a credere a discorsi divisivi di tipo nazionalista. È una generazione che crede, che si sente europea, che crede nei valori dell'Unione Europea e allo stesso tempo anche delle aspettative nei confronti dell'Unione Europea. Come dicevo si aspetta che i leader europei facciano pressione sulle elite, sulla classe politica in modo da cambiare un po' il corso della situazione politica dei propri paesi. In alcune proteste, in alcuni eventi c'erano dei cartelli, per esempio in Bosnia, che dicevano Unione Europea, noi siamo quelli che dovete ascoltare. Quindi è un chiaro invito ai leader europei a non proprio bypassare i governanti locali, ma sicuramente ad ascoltare le istanze che vengono in questo momento dalla piazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.